Sono contento di essere qui a Bologna perché mi fa molto piacere questa cosa. È una città che anche da ragazzo quando facevo università mi piaceva molto. Detto questo mi occupo della prevenzione degli infortuni, cioè vuol dire analizzare, preparare dei test e poi stabilire dei protocolli di lavoro particolari e specifici per ogni singolo atleta. In più mi occupo anche del recupero degli infortuni, in modo particolare delle lesioni muscolari. Col mister sono quattro anni che collaboriamo insieme e io per nove anni sono stato fisioterapista e mi occupavo anche lì di riabilitazione alla Fiorentina e poi avendo già lavorato a suo tempo con Prandelli che collaboravo quando eravamo a Parma con Donadoni, col mister Donadoni mi chiamò e mi disse se volevamo collaborare e dalla cosa è partita da lì. Mi trovo molto bene, sia dal punto di vista dell'organizzazione interna della società dove si riesce veramente a applicare, a fare il lavoro che non è così scontato dappertutto ma riusciamo a farlo perché c'è una grossa professionalità con lo staff medico, con tutti i collaboratori ma dal magazziniere agli autisti, insomma tutti. E questo fa ben sperare, vuol dire che si può veramente programmare un lavoro importante anche per il futuro. Grazie. Grazie.